19 in punto, buonasera, bentrovati alla seconda edizione del telegiornale di Super J, la cronaca in apertura con un'operazione importante della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, operazione denominata Betrug, che ha sgominato un giro di fatture false per 40 milioni di euro. Vediamo. Una consistente frode fiscale è stata scoperta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno che attraverso l'operazione convenzionalmente denominata Betrug ha scoperto un giro di fatture riferite ed operazioni inesistenti per 40 milioni di euro. L'indagine è stata avviata dalle fiamme gialle del nucleo di polizia tributaria sulla scorta degli esiti delle attività di monitoraggio e di analisi normalmente svolte a presidio del segmento della tutela dei mercati e della concorrenza. Il sistema di frode è stato accertato a conclusione di un'ampia indagine e coinvolto un imprenditore che attraverso una società costituita nella provincia fermana gestiva il commercio all'ingrosso sull'intero territorio nazionale di componentistica elettronica e l'informatica. I prezzi praticati al consumo alquanto convenienti e concorrenziali sono risultati il frutto del sistema fraudolento che era alimentato da altre cinque società italiane fantasma aventi il compito di attestare vendite solo cartacee al fine di frodare l'IVA. La merce veniva ceduta solo cartolarmente dalle società fantasma italiane a quella fermana con la pratica del sottocosto ossia ad un prezzo inferiore a quello di acquisto dai fornitori tedeschi. Duplice il profilo della frode da un lato il mancato versamento dell'IVA a debito da parte delle società cartiere scaturente dalle vendite ufficialmente effettuate alla società fermana. Dall'altro l'illegittima costituzione di crediti IVA da parte di quest'ultima società, ultimo anello della frode. La polizia economica e finanziaria a chiusura dell'indagine ha portato in breve tempo all'emissione da parte del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Fermo di un'ordinanza di misura interdittiva dell'esercizio dell'attività d'impresa nei confronti dell'imprenditore del Fermano e di un contestuale decreto di sequestro preventivo già eseguito dalle fiamme gialle di due immobili, due conti correnti e uno yacht, il cui valore complessivo stimato in diverse centinaia di migliaia di euro va sostanzialmente a ristorare una parte dei danni cagionati all'erario di quelli ulteriori e ben maggiori che sarebbero stati arrecati in caso di un mancato intervento da parte degli organi dello Stato. Ancora un incidente mortale purtroppo sulle strade pesaresi. In un drammatico scontro tra auto e moto ha perso la vita Federico Palezzato di 40 anni. L'uomo stava viaggiando in sella alla sua moto BMW quando ha perso il controllo del mezzo a causa anche del fondo reso scivoloso dalla pioggia per poi scontrarsi con un'auto che proveniva dalla direzione opposta. L'uomo, nato a Fanoma residente a Pesaro, è morto sul colpo. A nulla è valso il tentativo del 118 di rianimarlo. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pesaro che ha acquisito i primi elementi per la ricostruzione del tragico incidente. Durante una serie di controlli all'hotel House, i carabinieri di Porto Recanati hanno arrestato una coppia di nigeriani trovati in possesso di droga. La donna ha tentato di disfarsi di uno zainetto contenente duetti di marijuana, gettandolo dalla finestra in un appartamento al tredicesimo piano. Zaino e stupefacente sono stati poi recuperati nell'abitazione della coppia. È stato rinvenuto il materiale per il confezionamento degli stupefacenti, oltre a mille euro. I due stranieri sono in carcere a Camerino. E un tunisino di 31 anni, ci trasferiamo a Senigallia, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza e minaccia al pubblico ufficiale, resistenza pubblico ufficiale, rifiuto di indicazione sulla propria identità personale in concorso. I militari sono intervenuti per un litigio giunto in segnalazione al 112. Si parlava di una lite in un bar, ma arrivati i militari hanno identificato i presenti e sono stati per questo aggrediti, spintonati e verbalmente offesi e minacciati dal tunisino, che non solo si rifiutava di fornire indicazioni sulla propria identità, ma addirittura ha cercato anche di fuggire. Arrestato e stato processato per direttissima, il giudice questa mattina ha convalidato l'arresto e condannato l'uomo a quattro mesi di detenzione carceraria. Ci spostiamo a Colonnella, ancora cronaca per parlare del problema prostituzione, soprattutto per raccontare di una zuffa che vede protagoniste sei prostitute per un posto sotto il lampione. Ad essere runciate sono quattro romene e due albanesi. Nei confronti delle sei straniere, oltre alla renuncia per rissa, scatterà anche la richiesta di emissione del foglio di via obbligatorio. Se le danno di santa ragione, sulla strada davanti agli automobilisti di passaggio, per una disputa legata alla piazzola da occupare per abbordare i clienti. Sei prostitute dell'est Europa, quattro romene e due albanesi sono state denunciate, in seguito ad un intervento dai carabinieri della stazione di Colonnella. Teatro della Zuffa, la bonifica del tronto, la cosiddetta strada del sesso nel territorio di Colonnella. L'episodio, secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbe stato originato da una diatripa verbale, per il fatto che due rumene avevano occupato in maniera arbitraria, a danno delle albanesi, uno spazio dove si mettevano in bella mostra per contrattare la prestazione sessuale. Inizialmente la discussione, seppur vivace, è stata solo verbale. Poi alla disputa si sono aggiunte altre due donne e la cosa è degenerata, tra lancio di scarpe, schiaffi, pugni e donne che si tiravano i capelli. Il tutto sulla strada, in piena notte. Scena che non è passata inosservata a qualche automobilista di passaggio, che ha avvertito il 112. Sul posto è intervenuta la pattuglia della locale stazione. I carabinieri hanno fermato la disputa, identificato e denunciato le sei donne, residenti nel comprensorio. A carico delle sei lucciole sarà richiesta l'emissione, da parte della questura di Teramo, di un foglio di via obbligatorio di allontanamento dalla bonifica del tronto. Nessuna delle donne coinvolte nella rissa ha fatto ricorso alle cure mediche in ospedale. Ragione per la quale è da supporre che tutto si sia risolto con qualche semplice scorazione. Ci trasferiamo a Roseto, dove il cadavere di un uomo di 51 anni è stato trovato ieri pomeriggio nella propria abitazione in via Flavio Gioia a Campomare. L'uomo che pare soffrisse di crisi repressive si è impiccato legando la corda alla trave del sottotetto di casa. Il decesso risalirebbe a due giorni fa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, negli operatori del 118 di Giulia Nova. Torniamo a parlare del caso che ha stato sconforto e soprattutto anche preoccupazione in tutta Italia perché torniamo a parlare di una vicenda del 2011 in cui i coniugi Pruscino occultarono, secondo l'accusa, il corpicino del loro figlioletto Jason. Ebbene, per quella vicenda oggi per Danny Pruscino e Katia Reginella è stato chiesto l'ergastolo. L'accusa grave è di omicidio e occultamento di cadavere. Vediamo. Durante il processo in corte d'assise a macerata il pubblico ministero Cinzia Piccioni ha chiesto l'ergastolo e sei mesi di isolamento diurno per Danny Pruscino, il padre del piccolo Jason. Stessa pena ma con due mesi di isolamento diurno per Katia Reginella. La coppia, residente a Piene di Morro di Folignano, è accusata di omicidio volontario ed occultamento di cadavere del piccolo Jason di soli due mesi. Una vicenda che risale al giugno 2011 quando il piccolo scomparve nel nulla. Secondo la ricostruzione compiuta dagli inquirenti, il neonato sarebbe stato scagliato dal padre contro il divano del salotto. Il piccolo avrebbe urtato con la testa la porzione rigida del sofà ed il colpo gli sarebbe stato fatale. Presi dal panico i due genitori lo avrebbero sistemato in una busta di plastica e gettato in un cassonetto dell'immondizia o nelle campagne tra Folignano e Maltignano. Ad oggi il corpo non è stato ancora ritrovato. In aula il pubblico ministero Piccioni ha anche mostrato due video estratti dalla videocamera che la coppia aveva in casa. Nel primo si vede Danny che abbraccia il bambino, nel secondo invece un filmato shock. La coppia fa sesso poco dopo la morte del bambino. La Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato uno chalet abusivo a Potenza Piccena. Vediamo i particolari in questo servizio. I militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona hanno sequestrato uno stabilimento balneare abusivo sul litorale di Potenza Piccena a Macerata che occupava circa 3.000 metri quadri di area demaniale marittima. I finanziari hanno accertato che il titolare di una società di ristorazione e servizi per la balneazione cessata da circa 20 anni risultava ancora titolare di una concessione demaniale nonostante non ne avesse più titolo alla quale aveva ammesso illecitamente producendo false attestazioni, un'altra società senza alcuna autorizzazione da parte del comune. Sulla superficie demaniale inoltre erano state realizzate alcune opere anche permanenti e di difficile rimozione come cabine spogliatoi, ristorante, servizi igienici, gazebo e piattaforme prendisole, il tutto senza autorizzazioni di sorta. Lo stabilimento balneare e le strutture annesse del valore commerciale di circa un milione di euro sono state quindi sequestrate. Due le persone denunciate anche per i reati di danneggiamento e danno erariale. Le fiamme gialle hanno accertato contestualmente l'evasione di tributi locali per circa 30.000 euro. Restiamo nelle Marche e continuiamo a parlare di maltempo. Il maltempo che aveva flagellato alcuni giorni fa pesantemente Senigallia. Si continua a lavorare senza sosta da queste parti infatti per il ripristino dei luoghi danneggiati dall'alluvione del 3 maggio scorso. Quasi completate le operazioni di sgombero delle strade dal materiale ingombrante, anche se le ditte incaricate sono ancora all'opera. Nel sito di stoccaggio, allestito nel parcheggio del casello della 14, al lavoro una speciale macchina trinciatutto che sta trattando le circa 4.000 tonnellate di rifiuti portati in discarica in modo da ridurne al minimo i volumi. A Pescara, azione disciplinare del Comune sospesa per l'agente di Polizia Municipale del Comune Adriatico, indagato dalla Procura per rivelazione del segreto d'ufficio. Ai Carabinieri aveva segnalato, dopo controlli su registri della Municipale, il presunto mancato pagamento di una multa da parte del questore di Pescara Paolo Passamonti. La decisione è della Commissione Comunale. Registriamo questa sospensione e aspettiamo le mosse della Procura, si è limitato a dire l'avvocato Giovanni Pioronzo, legale dell'agente di Polizia Locale. Due ultra, uno di Giulianova di 25 anni e l'altro di Sant'Egidio alla Vibrata di 21, sono stati denunciati per episodi di violenza su persone in occasione della partita di calcio tra Giulianova e Ancona. Il tutto è accaduto lo scorso 6 aprile. Un gruppo di ultra del Giulianova, spalleggiati da alcuni tifosi della Sant'Egidiese, si nascosero nell'area verde parallela via 25 maggio in attesa del transito della tifoseria Doric. Il tentativo di arrivare allo scontro dopo corie d'invettive contro gli Anconetani fu evitato da Polizie Carabinieri che riuscirono a contenere anche i tifosi dorici pronti alla reazione. L'attività della Rigos ha consentito, con non poche difficoltà, visto che i presunti autori avevano anche il volto travisato, l'identificazione degli ultra responsabili che ora dovranno rispondere di episodi di violenza su persone e cose in occasione di manifestazioni sportive. Per essersi travisati rendere così difficoltoso il riconoscimento. I tuoi tifosi rischiano anche il DASPO. Parliamo di sanità, ci trasferiamo ad Ascoli. Anche nel capoluogo marchigiano i sindacati hanno partecipato ad un sit-in di protesta davanti all'ospedale Mazzoni per protestare contro i tagli della sanità del Piceno. Ampia partecipazione a testimoniare la preoccupazione per il settore che si trova in serie difficoltà. Cristiano ha organizzato le sigle sindacali CISL, CGL, FSI e NURSIND. Le sigle unite denunciano una situazione discriminatoria nei confronti della sanità Picena, che, con la distrutturazione del servizio sanitario regionale resasi necessaria a seguito dell'enorme taglio di risorse finanziarie, l'Aggiunta regionale Asura ha deciso che Pesaro conserva la sua azienda ospedaliera. Ancona offre ancora servizi di eccellenza. Macerato e Fermo conservano le loro unità operative di primo e secondo livello, mentre Ascoli e San Benetto subiscono gravi di penalizzazioni con tagli di personale, chiusure di intere aree cooperative e riduzione dell'attività chirurgica. Nel documento presentato alcuni mesi fa sulle reti cliniche, che dovrebbe essere attuativo da giugno, notiamo che nel Piceno vengono accorpati strutture complesse scomparse, mentre nelle altre aree vaste tutto è mantenuto. Le liste di attesa sono ancora molto lunghe e, denunciano ancora i sindacati, a pagamento le prestazioni vengono fatte invece molta fretta. I turni dei reparti sono continuamente scoperti o coperti con un numero insufficiente di personale. Le fere congedi sono una chimera, ma davanti a tutto questo, continuano i sindacati, grazie a una strategia ben congenita, da ancora si vuole far passare i lavoratori da fannulloni solo per aver fatto richiesta di un diritto legittimo previsto dalla legge come i congedi per le cure termali, senza però dire in alcun modo che le richieste di cure termali vengono rilasciate da medici e specialisti. Se il direttore del Moro e compagnia ritengono fasulle le richieste, perché non denunciano i medici per falso? Ancora una volta, sottolineano i sindacati, il territorio Piceno subisce una politica discriminatoria da parte della regione Marche, con la totale indifferenza dei rappresentanti politici del governo locale. Da Ascoli a Teramo per tornare a parlare del caso della signora Liliana, la donna malata di Sla, sequestrata in casa perché nella sua palazzina manca un ascensore. Bene, si è chiuso con un sostanziale e nulla di fatto il sit-in di protesta per la donna. Questa mattina il blogger Teramano Giancarlo Falcone, il comitato Ora Basta, il marito di Liliana Tonino Serafini e Sergio D'Ascenso della Croce Bianca hanno protestato sotto la sede dell'Ater in via Roma. Marco Pierangeli, commissario Ater, ha risposto al sit-in di protesta offrendo alla famiglia Serafini la possibilità di trasferirsi negli alloggi di via Damoli, soluzione però rifiutata da Tonino perché dopo 35 anni, dice l'uomo, non posso portare via una donna malata di Sla da quella che è stata sempre la sua casa. Pare che Pierangeli avrebbe riferito ad altre fonti, però che installare un ascensore nella palazzina della donna a Colle Atterrato di Teramo vorrebbe dire farlo anche in altri alloggi dove altre persone hanno le stesse problematiche. Falcone e gli altri sono pronti a riconsegnare le tessere elettorali se la situazione non verrà risolta a breve. Intanto però il quartiere inizierà nei prossimi giorni uno sciopero della fame a sostegno della causa di Liliana. Le segreterie dei sindacati dei pensionati di CGL, Cisle e Will hanno organizzato un incontro con i candidati della Val Vibrata in Consiglio regionale per sabato 17 maggio alle 10 presso la sala allienda del comune di Nereto. Il problema delle liste d'attesa e dei ticket sanitari incide pesantemente sia sull'esito delle cure che sui bilanci delle famiglie. Il problema esiste, non è stato risolto ma per SPI CGL, FNP Cisle e Willp Will è un problema che poi deve essere affrontato e portato a soluzione. Nella consapevolezza che la soluzione del problema delle liste d'attese dipende in larga misura dalle scelte delle istituzioni regionali e della Direzione Generale dell'ASL, i sindacati dei pensionati intendono sensibilizzare il mondo politico affinché rimetta al centro della discussione anche nella campagna elettorale i bisogni e gli interessi centrali dei cittadini. Di sanità continuiamo a parlare ma lo facciamo trasferendoci nel Piceno. Castel di Lama ha ospitato infatti gli stati generali della sanità che ha visto la presenza del governatore Gian Mario Spacca, degli assessori Mezzolani e Canziana ai vertici dell'Asur e dell'Area Vasta per discutere della situazione del settore in provincia. Cristiano Pietropaolo e Vincenzo Ingiulla. Può dire quella che è insomma la vera situazione attuale? Ma non esiste una differenza tra la sanità del Piceno e la sanità del Pesarese o del Masceratese o del Fermano. Abbiamo presentato i dati e un cittadino di Ascoli Piceno è trattato allo stesso modo di qualsiasi cittadino nel resto della regione, anzi flussi finanziari che vengono erogati per singolo cittadino su questo territorio sono superiori a quelli di Fermo, di Macerata e se Ancona è superiore soltanto perché su Ancona vengono imputati i costi di strutture regionali di presidi sanitari di alta specializzazione e quindi non possono essere paragonati i due dati. La verità è che ci troviamo in un paese in grandi difficoltà, le difficoltà si riversano anche sulla sanità e siamo costretti a organizzare i servizi ogni anno con risorse calanti. Quindi invece di fare polemica tra di noi e impoverirci tutti dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni condivise, operative, che escono dalla narrazione del problema della sanità. Facciamo troppa narrazione della sanità e entriamo invece in quelle che sono le esigenze dei cittadini e troviamo un ordine di priorità, delle urgenze e soprattutto sviluppiamo una solidarietà tra i territori, nel senso che alcune prestazioni possono essere erogate ad Ascoli, altre possono essere erogate a San Benedetto, altre a Macerata e la sanità regionale deve essere considerata unica. L'altissima specializzazione ormai è collocata ad Ancona, la cardiochirurgia pediatrica, un bambino che deve farsi un'operazione al cuore la fa ad Ancona, ma le altre specializzazioni si trovano sul territorio in una logica di complementarietà. Questo è il futuro che ci aspetta. Lasciamo la sanità, parliamo di ambiente. Acqua viola in prossimità di uno scarico sul torrente Vibrata, in particolar modo sulla Sponda, a confine con Albariatica, ma ricarente nel territorio di Corropoli. Un cittadino ha infatti immortalato ieri una strana colorazione dell'acqua, un violaceo, appena prima del temporale che con ogni probabilità ha diluito e trascinato via tutto. Oggi infatti in quel punto l'acqua era tornata nel suo effetto cromatico classico. Stabilire il perché di quello strano effetto al momento non è possibile, visto che le successive verifiche non hanno evidenziato la presenza di nessuna sostanza anomala. Visti precedenti però, non è da escludere che qualcuno possa aver scaricato nel fiume qualche sostanza, residuo di lavorazioni industriali, anche in considerazione del fatto che l'acqua viola è stata immortalata al ridosso di un canale di scolo. A un mese dall'annuncio del volo Charter, che dal 14 giugno al 13 settembre avrebbe collegato Pescara a Mosca, Saga e in Tourist annunciano il differimento del programma. I recenti avvenimenti in Ucraina spiegano stanno avendo un impatto negativo superiore alle attese sui flussi di traffico dalla Russia verso i paesi dell'Unione Europea. Rimane confermato l'impegno di Saga in Tourist per il collegamento aereo diretto che verrà riprogrammato. E parliamo di scuola. Per la prima volta, sospinta iniziale dei genitori a San Benedetto, opererà una classe scolastica nella quale gli insegnanti adopereranno il metodo Montessori. Ad essere coinvolto l'istituto scolastico comprensivo Sud di San Benedetto. Cerchiamo di capirne di più con Massimo Falcioni e Arianna Cameli. Si chiama Bambini liberi di imparare. Il convegno dedicato al metodo Montessori che sbarcherà a San Benedetto sabato 17 maggio presso l'auditorium comunale. Tanti relatori parteciperanno all'appuntamento. Ascoltiamo gli organizzatori. Io sono Luca Beti e sono il promotore del gruppo Facebook dal quale poi è nata l'iniziativa del convegno e la creazione della prima classe montessoriana nella provincia di Ascoli all'ISC Sud di San Benedetto in VR4Ville. Il convegno che ci sarà sabato riguarderà il metodo Montessori e è teso a presentare il metodo soprattutto ai cittadini e ai genitori che vogliono conoscere di più. Anche noi abbiamo iniziato a studiare il metodo insieme con questo gruppo che in pochi mesi si è allargato da poche decine di persone di Porto d'Ascoli ha quasi 300 iscritti al nostro gruppo e il metodo infatti nonostante abbia oltre 100 anni ha una impostazione tutt'oggi innovativa che lascia l'ampia libertà al bambino e rispetto dei tempi e dei modi di apprendere del bambino. Quindi un concetto di educazione completamente diverso che è la base secondo il nostro gruppo dei genitori di un nuovo approccio educativo che sia improntato al rispetto del bambino e che non imponga un'educazione di tipo frontale e che sia quindi nozionistica quando un'educazione esplorativa che è di ampio spazio alla creatività che soprattutto nei primi anni di educazione è poi la base per sviluppare le capacità e l'intelligenza vera, l'intelligenza creativa che serve poi in tutte le altre fasi dell'educazione superiore universitaria nonché poi nel lavoro che fa la differenza. Torniamo in Abruzzo al Comune dell'Aquila sono stati assegnati 3 milioni di euro per la realizzazione di interventi in ambito infrastrutturale e in particolar modo per le strutture sportive e pubbliche l'accordo di programma che rientra nell'attività di sostegno alla coesione sociale nell'area del cratere è stato sottoscritto questa mattina tra la Regione e il Comune dell'Aquila rappresentato dal Vice Sindaco Nicola Trifuoggi l'accordo prevede la realizzazione di quattro progetti il ripristino, reguamento e completamento dell'impianto sportivo Acquasanta il ripristino e il miglioramento degli impianti sportivi di Piazza Armi il risanamento e anche in questo caso il ripristino del Palasport di Vialovidio ed infine il risanamento della piscina comunale Ondina Valla La pagina elettorale si concluderà domani pomeriggio con l'incontro con la candidata alla Presidenza della Regione Abruzzo del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi il ciclo di incontri organizzati dalla CNA Abruzzo con gli aspiranti governatori in vista delle elezioni del prossimo 25 maggio l'incontro con la Marcozzi chiude la serie di confronti avviati il 7 e l'8 maggio scorsi con Luciano D'Alfonso, Maurizio Cerbo e Gianni Chiodi sui temi proposti all'attenzione di diversi leader delle coalizioni politiche che li sostengono dal documento messo a punto dalla CNA regionale in vista dell'appuntamento elettorale di fine mese il faccia a faccia con la Marcozzi aperto agli organi di informazione si terrà alle 16 nella sede regionale della Confederazione Artigiana a Pescara arrivano i big della politica nazionale per sostenere le campagne elettorali dei candidati alla Regione fitto è il programma degli arrivi in alcuni casi anche con comizie e non soltanto con incontri sabato sarà la giornata di Gianni Alemanno tra i leader nazionali di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale che trascorrerà due giorni in Abruzzo in particolare sabato a Teramo assieme al candidato alle regionali del suo partito da Gian Donato Morra a mezzogiorno sarà a San Matteo per una conferenza stampa di presentazione dei candidati regionali nel pomeriggio sarà a Roseto degli Abruzzi a Silvia in serata dal Barriatica tornerà nel Terramano domenica sera alle 21 a Montorio domenica pomeriggio sarà a Teramo il leader dell'Italia Revalori Antonio Di Pietro la sua presenza è prevista per le 18.30 in corso Porta Romana mercoledì 21 sarà Nichi Vendola di Sel a tenere un comizio alle 17 in Piazza Marteri il candidato alle elezioni regionali di Inopepe si legge in una nota sarà questa sera alle 21 a Nereto presso il ristorante Lago Verde per presentare la lista Santomero che vogliamo e domani 16 maggio alle 10 sarà a Villa Lempa e alle 19 a Tortoreto Lido per un incontro elettorale presso lo chalet.g con degustazioni di prodotti locali il candidato alle elezioni regionali per Forza Italia Paolo Gatti domani sarà a Poggio Cono e a Santonofrio di Campli per presentare cittadini simpatizzanti alla sua proposta politica in vista delle regionali gli incontri si terranno venerdì a Poggio Cono alle 19.30 presso l'Argriturismo Verdecchia a Santonofrio di Campli alle 21 presso il Caffè Evergreen in via Mirabili 75 e adesso parliamo di ambiente soprattutto della coda polemica legata al mancato riconoscimento delle bandiere blu per alcuni comuni costieri abruzzesi in particolar modo e in questo caso parliamo di Martinsicuro la perdita della bandiera blu non è un fatto casuale ma la testimonianza che le istituzioni non hanno prestato nel corso degli anni la giusta attenzione alle tematiche ambientali la puntualizzazione arriva dal Comitato Difesa Ambiente di Martinsicuro che traccia le linee di tutte le criticità del territorio in materia di tutela della salute e il servizio la perdita della bandiera blu a Martinsicuro genera polemiche prese di posizione come quella del Comitato Difesa Ambiente dopo anni di assenza delle istituzioni in materia di verifica ambientali sul territorio infatti questi sono i risultati si legge in una nota a Martinsicuro è stata tolta la bandiera blu l'indice di quel mare pulito tanto decantato che in realtà nascondeva una condizione di precaria solubrità l'amministrazione comunale non può che sentirsi ricompresa tra quelle istituzioni che quantomeno non hanno preteso dagli enti competenti le costanti indagini sul territorio per garantire il mantenimento delle dovute e corrette condizioni ambientali il sindaco di Martinsicuro scrive ancora il Comitato Difesa Ambiente ha comunicato di sentirsi amareggiato e sconcertato ma esattamente così come si è sentito il Comitato ogni qual volta non è stata data una risposta esaustiva alla richiesta di adozioni di provvedimenti nei confronti delle ditte delle zone industriali che invadono l'area di Martinsicuro di polveri neri di odori e gas di rumori insopportabili di scarichi inquinanti i problemi di Martinsicuro infatti non sono solo legati alla balneazione ma in maniera molto grave anche alla qualità dell'aria gli allarmanti risultati del monitoraggio atmosferico effettuati in autunno in via Roma nei pressi delle zone industriali lo dimostrano ampiamente gli abitanti delle zone residenziali e turistiche si legge ancora più prossime a quelle industriali hanno perso la serenità, la tranquillità nel vivere e forse anche la salute il Comitato Difesa Ambiente ha più volte esortato il sindaco Paolo Camaioni unica autorità competente in materia di salute pubblica e ben al corrente delle condizioni di disagio segnalate ad adottare opportuni provvedimenti nei confronti di alcune note aziende della zona industriale di fatto, al di là di una semplice segnalazione all'alta di Teramo di oltre un anno fa, dice ancora il Comitato e che al momento pare non abbia avuto alcun seguito non sono state portate avanti azioni determinanti e a risolvere questioni di così grave entità inerenti alla salute pubblica il Comitato Difesa Ambiente si legge ancora ha dimostrato finora un atteggiamento propositivo e collaborativo segnalando alle istituzioni le fonti di inquinamento per consentire di adempere in modo celere ai propri compiti di istituto a salvaguardia dell'ambiente e della salute ha proposto spesso percorsi da seguire per giungere alla soluzione dei problemi ma non è stato mai ascoltato a causa di scellenate scelte politiche degli anni passati si chiude la nota che hanno dato troppo spazio in questo piccolo territorio all'industria pesante a scapito delle risorse principali rappresentanti da turismo e natura oggi confermato anche dalla perdita della bandiera blu Martinsicuro inizia a pagare inevitabilmente un conto salato che speriamo almeno induca ad un cambiamento di rotta verso politiche sagge a tutela dell'ambiente e conseguentemente lo sviluppo economico corretto della nostra città e proprio sulle acque di bagnazione giungono dati confortanti semmai queste possano servire a contenere la polemica legata alla bandiera blu al mancato riconoscimento per alcuni comuni e soprattutto in questo caso per Alba Adriatica l'Arta, l'Agenzia di tutela ambientale regionale dopo la prima fase di analisi sui campioni e delle acque marino costiere spiega che è confermata la situazione del 2013 con oltre l'80% di costa balneabile ovviamente questo è il dato che scaturisce dalla serie di analisi e quindi è la stessa Arta che le mostra, le notifica è risultata entro i limiti di legge anche l'acqua prelevata ad Alba Adriatica a sud del torrente Vibrata e se il dato positivo verrà confermato dalle successive verifiche la seconda infatti in corso potrà essere rimosso il divieto di balneazione attualmente vigente secondo le elaborazioni col dirette a causa della crisi i consumi alimentari degli italiani sono scesi su valori minimi dagli anni 80 con la spesa alimentare per abitante che era sempre stata tendenzialmente in crescita dal dopoguerra fino a raggiungere l'importo massimo nel 2006 per poi crollare progressivamente in misura crescente ogni anno una leggera inversione di tendenza positiva che è attesa per il 2014 perché, conclude col diretti sarà proprio la spesa alimentare che rappresenta la seconda voce del budget familiare a beneficiare maggiormente del bonus di 80 euro al mese per alcune categorie di lavoratori dipendenti disoccupati e cassi integrati che destinano una quota rilevante del proprio reddito all'acquisto di cibo il comune di Teramo in collaborazione con Teramo Ambienti ed Ariatica Oli potenzierà a giorni il servizio di raccolta degli oli vegetali esausti da utenza domestica con il posizionamento di otto campane stradali utilizzate proprio per questo fine Olivia, questo è il nome dei contenitori gialli dove i cittadini potranno conferire l'olio alimentare residuo dalle fritture e dalla conservazione degli alimenti un passo importante se si pensa che questo rifiuto si è disperso in natura è altamente inquinante per l'ambiente l'olio esausto inoltre è giunto al depuratore ne innalza i costi di manutenzione infatti è stimato che in ogni chilo che raggiunge l'impianto comporta una spesa extra di 50 centesimi e se versato negli scarichi domestici ostruisce anche le condutture fognarie se raccolto in maniera differenziata può invece essere avviato a recupero e trasformato in prodotti molto utili tra i quali biodiesel distaccanti per edilizia prodotti per la Cosmesi inchiostri e nuova energia a San Benedetto del Tronto il 29 maggio scade il termine per la presentazione della domanda di concessione di lotti di terra di circa 75 metri quadri ciascuno in zona annunziata da destinare a orti per anziani l'iniziativa è stata realizzata dal comune con la determinante collaborazione del Lions Club San Benedetto Host che ha messo a disposizione 30.000 euro per realizzare i lavori di sistemazione del terreno di proprietà comunale gli interessati devono presentare domanda in bollo da 16 euro entro giovedì 29 maggio utilizzando il modello che è scaricabile presso l'ufficio disponibile presso l'ufficio relazioni con il pubblico scaricabile presso il sito www.comunesbt.it alla voce bandi di gara possono fare domanda a chi ha più di 67 anni e non possiede altri appezzamenti di terreno coltivabili nel territorio comunale e nei comuni limitrofi la graduatoria sarà formulata sulla base dell'età del richiedente della fascia Isee in cui si colloca il reddito familiare del numero dei componenti il nucleo familiare parliamo del concorso quale gonfalone è giunto alla quarta edizione e indetto dal comune di Teramo sono stati infatti premiati stamani in municipio i vincitori del concorso scolastico l'iniziativa coinvolge gli studenti che frequentano le classi terze delle scuole medie inferiori ed è finalizzata l'ideazione di una realizzazione grafica di uno stemma identificativo delle diverse aree del territorio comunale oggetto del concorso di quest'anno il quartiere Madonna delle Grazie la commissione giudicatrice ha decretato come primo classificato il progetto realizzato da alcuni studenti della terza B dell'istituto comprensivo statale d'Alessandro risorgimento di Teramo secondo classificato il progetto realizzato dagli studenti della terza E dell'istituto comprensivo statale Savini San Giuseppe San Giorgio terzo classificato il progetto realizzato dagli alunni della terza dell'istituto comprensivo San Giuseppe San Giorgio dell'istituto statale sempre Savini i premi concessi grazie alla sponsorizzazione riconosciuta a seguito della gara e ottenuta dalla Banca dell'Adriatico sono una borsa di studio di 2.000 euro al primo classificato una borsa di studio di 1.000 euro al secondo mentre al terzo è stata assegnata una borsa di studio da 500 euro torniamo per un attimo a parlare di sanità e soprattutto delle proteste le avevamo fatto per il Terramano ma anche nelle Marche è stato organizzato un presidio proprio dai sindacati dei pensionati di CGL Cisle e Will che è andato in scena questa mattina davanti alla sede della regione Marche l'iniziativa rientra nella campagna nazionale di SPCGL FNP Cisle e Will Wilp intitolato Non stiamo sereni prevista una serie di iniziative nelle varie città supportate dalla raccolta di circa 80.000 cartoline che verranno consegnate al Presidente del Consiglio Matteo Renzi le cartoline contengono i punti essenziali della piattaforma unitaria definita dai sindacati dei pensionati che oltre al problema delle basse pensioni e della difesa del welfare mette al centro la questione dell'equità fiscale collegata a una seria lotta all'evasione Parliamo di un evento oramai atteso nel panorama regionale non solo come evento anche unico nel centro-sud Italia ed è la mostra scambio delle radio d'epoca e delle telecomunicazioni che si svolgerà domenica a Nereto e che è giunta alla sua ventitresima edizione l'evento è organizzato dalla locale Sezione e dell'Ari l'associazione radioamatori italiani taglio del nastro domenica per la ventitresima edizione della mostra scambio da radio e delle telecomunicazioni che cosa accadrà qui nel padiglione della zona industriale ci sarà il taglio del nastro in mattinata ovviamente con lo flusso di tutti gli espositori proveniente da tutte le parti d'Italia anche dall'estero quindi del ventitresimo evento ne siamo contenti e felici di questo sistema di organizzazione di questa mostra è successo negli anni mano a mano sono sempre andati avanti e migliorato in aumento e credo che quest'anno sarà intorno ai 110 120 espositori quindi siamo euforici molto contenti di questa attività e va bene così aspettiamo la domenica mattina il grande evento ringrazio la Super J la televisione nostra delle Marche dell'Abruzzo per darci la possibilità di far conoscere ancora una volta di più quelli che sono i programmi della sezione Are di Nereto e tra cui in maniera molto diciamo importante e da sottolineare è la costituzione del museo della radio e delle telecomunicazioni della Val Vibrata questo nostro sforzo che non è da poco a carattere nazionale questa mostra che è la ventitresima edizione quindi sono ventitré anni che ci adoperiamo e con il solo scopo di poter istituire a Nereto aprire presto al pubblico il museo della radio delle telecomunicazioni un tuffo nel passato avremo di tutto dalle radio di inizi e novecento i jukebox piuttosto che altre apparecchiature di telecomunicazione quindi per i nostalgici un'occasione da non perdere ma veramente come hai detto che in certo qual modo ci sono dei pezzi proprio rari rarissimi di sale 1925 1926 1920 e poi mano a mano andando a 30 40 50 via di scoria abbiamo un po' di tutto quindi si prega ai visitatori l'ingresso è libero troveranno tutti quei cimelli e quelle cose che potrebbero servire per riparazione o meno con una valvola un condensatore un diodo perché no anche una scala parlante quindi troverà di tutto tanto di più qui alla 23esima mostra della radio l'epoca qui a Nereto il 18 di maggio bene parliamo invece di un importante evento di spettacolo che si è svolta ad Osimo applausi e grande commozione per la tempesta di Shakespeare rivista e messa in scena dagli utenti sordocecchi della Lega del Filodoro al teatro La Nuova Fenice di Osimo lo spettacolo è nato con lo scopo di diffondere e sviluppare la cultura del teatro a beneficio delle persone con pluriminorazioni psicosensoriali cui partner sono oltre alla Lega del Filodoro in Italia anche altre associazioni di Francia Scozia e Germania una due giorni per valorizzare le tipicità e le eccellenze locali sono il territorio e i suoi prodotti i protagonisti assoluti dell'Appennino Festival che si svolgerà sabato e domenica nel parco dell'Istituto Agrario di Piano Daccio a Teramo l'evento è promosso dal GAL leader terramano in collaborazione con l'Istituto di Popparozzi la Col Diretti Provinciale la CIA Teramo il Consorzio Costa dei Parchi un ricco programma di eventi animerà il prossimo weekend all'insegna dell'agroalimentare di qualità con convegni laboratori didattici alla scoperta dell'olio e delle erbe mangerecce show cooking esposizione degustazione e commercializzazione di prodotti a chilometri zero a fare da cornice alla manifestazione un vero e proprio villaggio allestito nel parco il GAL Village che ospiterà le variarie espositive con la presenza di oltre 40 aziende produttrici di olio vino, formaggio birre artigianali carne marchigiana salumi e miele Torna all'iniziativa della Notte Europea dei Musei sabato dalle 20 alle 24 apertura soordinaria anche dei musei abruzzesi al costo simbolico di un euro in Abruzzo si potranno visitare a Chieti il Museo Archeologico Nazionale di Villa Frigeri e il Museo Archeologico La Civitella anche a Campli apertura soordinaria per il Museo Archeologico Nazionale aperti anche il Museo d'Arte Sacra della Marsica Castello Piccolomini di Celano da Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Badia sul Mona il Museo Casa Natale Gabriele D'Annunzio a Pescare la Abbazia di San Clemente a Casauria a Castiglione di Casauria domani l'attesissima Mille Miglia la rievocazione della celebre gara che ha percorso l'Italia con i migliori piloti e le migliori vetture da corsa dal 27 al 1957 partita oggi da Brescia attraverserà anche alcuni comuni delle Marche dell'Abruzzo nel pomeriggio di domani la Mille Miglia attraverserà Pesa Rancona Macerata e Ascoli Piceno mentre la serata si svolgerà in Abruzzo ad essere attraversati saranno i comuni di Civitella del Tronto Teramo e L'Aquila a spiccare saranno la presenza dell'attore inglese premio Oscar Jeremy Irons del presentatore autore e comico tv statunitense Jay Leno del principe Leopoldo di Baviera del cantando degli ACDC Brian Johnson del messicano Joramires tecnico di Formula 1 pluriridato con Stuart in McLaren con Prost Senna e Acchinen degli ex piloti Jack X e Joken Mass Martin Brandl Bruno Senna Teofabio e Klaus Ludwig Urbino rende maggio a Ivan Graziani con una mostra fotografica da oggi fino al 24 maggio al Teatro Sanzio il cantante visse in città per una decina d'anni da studente e qui fondò la sua prima band Ivan e i Saggi poi diventata Anonima Sound con due giovani urbinati Veglio Gualazzi Parre di Raffaele e Walter Monacchi il gruppo ebbe un successo un buon successo alla fine degli anni 60 partecipando a due edizioni del Cantagiro già in passato con cartelle di sogni volume realizzato in collaborazione con Vincenzo Mollica Urbino aveva reso omaggio a Graziani raccogliendo i suoi autoritratti i personaggi alla corto maltese le donne feliniane le scene di vita quotidiane insieme ai numerosi schizzi che rimandano ai suoi brani ora la mostra sale la nebbia ad Urbino con preziose testimonianze e ritratti dell'Anonima Sound organizzata con la preziosa collaborazione della moglie di Graziani e Anna Bischi insieme a incontri e altre iniziative le foto sono di Claudio Meloni direttore della fotografia e docente di metodi e tecniche di riproduzione video all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ed ora le previsioni media Buonasera benvenuto al consueto appuntamento con le previsioni metodo dell'Istituto Aeronautico Antonio Catelli diamo ora uno sguardo alla mappa dell'Isober che ci mostra una bassa pressione che in queste ore sta portando un mal tempo nelle regioni del centro-sud mentre invece il nord è protetto da questa alta pressione che sta garantendo un tempo stabile su tutte le regioni del nord diamo ora invece uno sguardo alla panoramica generale per quanto riguarda la nostra penisola nella giornata di venerdì avremo una situazione divisa a metà infatti le piogge e i temporali si accentreranno sulle regioni del centro-sud mentre invece al nord sarà una giornata soleggiata o poco nuvolosa con qualche residuo a pioggia sulle parti estremi del Friuli diamo ora invece uno sguardo approfondito per quanto riguarda le previsioni per le Marche e per l'Abruzzo sarà una giornata all'insegna del mal tempo infatti avremo piogge diffuse in ambedue le regioni con particolari riferimenti per quanto riguarda l'entroterra dell'Abruzzese per quanto riguarda le temperature avremo temperature al di sotto delle medie stagionali infatti avremo valori massimi che si aggireranno tra 12 e 16 gradi per quanto invece riguarda la situazione per mari e venti avremo una giornata abbastanza ventosa per quanto riguarda i settori costieri e un mare abbastanza mosso vi ringraziamo per l'attenzione da Metano Catelli è tutto al prossimo appuntamento ad arrivare bene era l'ultima notizia del nostro notiziario l'informazione con G News torna domani alle 14 grazie per essere stati con noi a tutti buon proseguimento di serata